Ciao da me e Sara, oggi parliamo di pantaloni sci da donna che sono già stati usati sul ghiacciaio dello Stubai in marzo 2022 e sulle piste del Dolomiti su Peschi nel dicembre 2022. Quindi Sara si è fatta un'idea chiara su questo prodotto e si tratta del modello Piste 500 di Weiz, quindi distribuito dalla Decathlon, oggi in offerta strepitosa. Su 428 recensioni il punteggio è un 4.6, quindi molto buono. Qualcuno si lamenta della cintura non troppo regolabile, della tenuta al grande freddo e impermeabilità sotto la pioggia. Ora vediamo le caratteristiche principali. Un sistema integrato di ghette, facilmente raggiungibili tramite cerniera. Girovita facilmente regolabile con strap. Un taglio veramente alla moda, tessuto elastico, grande libertà di movimento. Due comode tasse con apertura zip. La parte che va a contatto con lo scarpone sembra essere adeguatamente rinforzata. La ghetta chiaramente evita l'infilciarsi della neve. Interno in pile smerigliato e tessuto traspirante. Per quanto riguarda, diciamo, i punti deboli, Sara non ha trovato problemi con la cintura che a lei calza perfettamente. Sicuramente con un numero di taglia giusto non ci sono problemi. Ho visto nelle recensioni che consigliano una taglia leggermente più grande. Sara ha preso la stessa taglia, solo che non porta pantaloni termici sotto, che sono consigliati per il grande freddo. La temperatura comunque in cui l'ha provati erano di poco sotto lo zero. Ovviamente si tratta di opinioni del tutto personali, soprattutto per quanto riguarda la sensazione del freddo. Per quanto riguarda l'impermeabilità alla pioggia, purtroppo e per nostra fortuna non abbiamo potuto verificare. Però una bella nevicata sulla pista da sci hanno dimostrato che non ci sono particolari problemi. Attenzione sul sito della Decreton, ci sono indicazioni sull'avaggio e sull'asciugatura per non fare perdere l'impermeabilità. Attenzione anche ad un nuovo modello che vedo quest'anno sul sito della Decreton, hanno una chiusura su fascia laterale totalmente diversa da questi. Noi ci riferiamo al Piste 500 e non quelli della nuova collezione. Non avendo legami commerciali con la Decreton che distribuisce questo prodotto, questi pantaloni entrano a pieno titolo nelle mie Genuine Review per il rapporto qualità-prezzo. Non ci resta che augurare come sempre buona montagna a tutti da me e Sara.